L'azienda True Brothers che io rappresento ha vari brand in licenza, sia Italia che mondo. Fra Comina, che è un brand fashion, dove comunque prevale un po' la parte elegantina della bimba che si vuol sentire un po' donna. Poi abbiamo il brand Bickenberg, che è un brand sport fashion, evoluto, dove all'interno troviamo una pluralità di offerta di prodotto, dalla tuta, piuttosto che dal maglioncino, alla giacca e in questo momento lo sport fashion è di grande attenzione nel mercato. Poi abbiamo il marchio Freddy, un marchio di vocazione sportiva, oggi il marchio Freddy rappresenta l'unico marchio italiano 100% nel mondo sportivo e quindi noi abbiamo voluto associare alla parte sportiva, quindi basica, un concetto un po' più evoluto. Poi abbiamo il marchio Top Gun, è inutile dirvi che il marchio Top Gun è l'icona americana per eccellenza, grazie anche al film appena uscito, stiamo seguendo il filone, è chiaro che qui prevale lo spirito americano, diversity, piuttosto che ai vari giubbini indossati nel film da Tom Cruise. Infine poi abbiamo il marchio Gaudì, un marchio storico del mercato italiano, dove si unisce la parte sportiva, la parte fashion, con delle novità importanti sia in ambito di tessuti, di fantasie. Oggi i nostri mercati di riferimento, oltre al mercato italiano, sono i mercati mondiali, fra cui il mercato russo, il mercato arabo, piuttosto che il Giappone e il Cine.